Ma io vorrei evitare di riprendere l'antica abitudine di stare dentro i commenti sui processi di Berlusconi. Chi è Berlusconi lo sanno tutti gli italiani, qual è il suo comportamento rispetto alle imputazioni di reato lo sanno tutti gli italiani. Lui ha giocato sempre a sabotare la giustizia, a sabotare i processi, ha provato sempre a difendersi dai processi e non nei processi. Punto. Credo che questa parte, anche noi che critichiamo fortemente Berlusconi, dovremo provare a non farla più. Nel senso che dobbiamo concentrarci sui danni che Berlusconi ha fatto alla società italiana, alla scuola italiana, al mercato del lavoro. Il berlusconismo è stato una tragedia per l'Italia. L'Italia è un paese che è arretrato da tutti i punti di vista, si è impoverito e si è inselvagito. Allora bisogna sconfiggere Berlusconi, che ovviamente fa politica innanzitutto per difendere i propri interessi privati, ma almeno questo lo hanno capito davvero proprio tutti.